Allora, buonasera a tutti. Siamo qui per un nuovo evento dei giovedì di EIT, con i quali ormai da parecchi mesi ci facciamo compagnia una volta ogni 15 giorni per discutere un po' delle grandi prospettive di scienza, di scienza applicata, di industria, di cosa succederà nel futuro nei settori di nostro interesse. Io sono Paolo Ravazzani, sono il direttore dell'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, do il benvenuto a tutti, mi tocca perché mi chiedono tutte le volte di avvisare tutti che la riunione sarà registrata e l'evento sarà reso disponibile sul canale YouTube del nostro istituto. Detto questo, ringrazio sicuramente il nostro ospite, il professor Antinucci e passo la parola a Daniele D'Agostino che ha organizzato l'evento e procederà a tutto il resto. Quindi Daniele la parola a te. Grazie. Allora, innanzitutto ringraziamo Marco perché ieri non stava molto bene e anche oggi non ha una bellissima cera, però ce la può fare. Allora, Marco Ardinucci è professore ordinario all'Università di Torino, ma è stato anche nostro collega un po' di anni fa, se non sbaglio eri a Listi. Sì, ero a Listi. È di Pisa, come sentite dall'accento, dunque dal punto di vista curricolare è stato insegnato dell'HPC Advisory Council University Award nel 2011, dell'Imbedia Research Award nel 2013, dell'IBM Faculty Award nel 2015. Ha partecipato a una quindicina di progetti europei in questi anni e adesso coordina un centro di competenza a Torino, una joint activity tra l'Università e il Politecnico di Torino, dedicato al HPC for AI. Infine, è membro rappresentante per l'Italia nel board dell'Euro HPC Joint Undertaking, l'iniziativa forse la più recente del 2018 per lo sviluppo di sistemi exascale, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software, a livello europeo. E con questo passo la parola per la presentazione. Sì, mi senti? Sì. Scusate, ma siccome appunto, come ha detto Daniele, ho una sistemazione un po' precaria oggi, vi chiedo ancora un secondo perdono che ho dovuto cambiare stanza. Ecco. Grazie Daniele per l'introduzione, appena il computer si decide di aprire il... Le slide, Daniele? Non so se mi si vede o no. No? Sto apparendo qualcosa? Sì, mi si vedete? Allora, Daniele mi ha detto che dovrei parlare una trentina di minuti, vero? Più o meno. Sì. Bene, allora, appena scopro come si presentano le slide, così. Si vedono? Sì. Allora, anche mi ha detto che questo genere di seminari non sono, diciamo, seminari ultra tecnici, ma così, insomma, di chiacchierate informali, appunto, aperitivi o cocktail, come si chiamano. Quindi, sai, io l'ho interpretata proprio così. Giusto, Daniele? È così. Assolutamente, stavo andando a prendere lo sfumante. Vabbè, prendere anche per me. Allora, diciamo, io oggi volevo parlare di HPC AI. Parto con una slide che è quella, diciamo, la prima che presento sempre quando faccio le mie lezioni agli studenti, che è la motivazione per cui a un certo punto serve utilizzare il calcolo altre prestazioni. E normalmente serve perché uno intende calcolare un problema che se lo calcola con un calcolatore normale non ottiene un risultato in tempo. Ora, l'esempio classico è quella di previsioni del tempo. Se uno per prevedere il tempo di domani ci mette due giorni di calcolo, non funziona. Questo è andato avanti così per molti anni e a un certo punto, insomma, l'HPC è servito chiaramente a due scopi. Uno, a fare le cose più velocemente e due, a fare le cose più precisamente, simulazioni, digital twin, eccetera, eccetera. Ora, uno si potrebbe chiedere perché serve fare le simulazioni così precisamente. Beh, insomma, tanto per rimanere in un tema di attualità, che normalmente si identifica con un tema di intelligenza artificiale, insomma, la guida autonoma, ha bisogno di grande precisione nella simulazione perché sono di fondamentale importanza le conoscenze delle condizioni della strada. Quindi questo è un caso, ma è solo uno. Dal punto di vista del calcolo, più tecnicamente, le cose sono piuttosto semplici perché i calcolatori che usano grandi calcolatori scalabili, Marco, mi sa che hai messo la finestra sbagliata perché vediamo sempre la prima slide. Ah sì? Sì. E ora? Perfetto, adesso sì. Però io non, cioè, se la metto a tutto schermo, cioè così la devo tenere, cioè io non so cosa vedete, però immagini immaginate. A sinistra l'elenco delle slide, al centro. Beh, se va bene così posso farlo così, avevo provato a metterla a tutto schermo, però evidentemente non funziona. Che dici, la faccio così? Sì, sì, sì. Vabbè. Beh, allora, insomma, quello che avevo fatto vedere prima era questo, insomma, era il solito calcolo fra vicini, insomma, di stencil, in cui si determina il valore di una cella in funzione del valore delle altre. Avevo detto che serve per applicazioni nuove e ora stavo dicendo che in realtà il modo di fare calcoli scalabili su una macchina con tanti processori, quindi una macchina a alto parallelismo, è abbastanza semplice, non che sia semplice da scrivere, ma teoricamente alla fine, diciamo, l'unico modo per rendere veramente scalabile un'applicazione, cioè efficiente su tanti processori, è ridurre il numero di comunicazioni, di sincronizzazioni per processori a un numero costante. Questo si può identificare normalmente con il metodo dello stencil, quindi in qualche modo, tecnicamente, la computazione è locally synchronous. Le computazioni globally synchronous, che dipendono sostanzialmente dai dati di tutti gli altri processori, sono molto, molto più problematici dal punto di vista della scalabilità. Siamo andati avanti così per anni e tutte le equazioni differenziali si risolvono così, gran parte delle simulazioni sono calcoli molto ben capiti, si usano tantissimo in fisica, chimica, ingegneria, quello che volete. Non sono particolarmente astratti e non sono neanche gli unici, altri modelli di calcolo hanno avuto più successo in altre aree, che sono, per esempio, modelli più globally synchronous, che hanno sostanzialmente una sorta di barrier che sia sincrona o sincrona, uno di questi, per esempio, è il modello MapReduce, che si usa tanto nelle applicazioni Big Data. Ad oggi l'insieme delle applicazioni, queste sono le applicazioni scelte per fare i dimostratori del programma Exascale americano e come vedete, diciamo, qui nell'istogramma ci sono i programmi model che vengono utilizzati, su 30 applicazioni, tutte e 30 usano MPI. MPI, per chi è minimamente esperto di questa area, è un programmi model estremamente di basso livello in cui è necessario programmare specificamente le comunicazioni fra tutti gli attori, fra tutti quelli che partecipano al calcolo, e in cui è abbastanza comune scrivere computazioni di tipo stencil o stencil reduce. Su questo, diciamo, anch'io personalmente, insieme ai miei studenti, in realtà ci siamo esercitati anche a scrivere articoli scientifici, cercando di catturare anche un po' l'essenza di questo modo, dove abbiamo chiamato in questo caso practical parallelization of scientific application utilizzando vari metodi, in questo caso OpenMP, MPI e OpenACC. Ecco, insomma, un po' il messaggio che io porto qua è che in realtà quando uno lavora su questo genere di applicazioni non è così importante se sta lavorando a shared memory o su una GPU o con MPI, insomma su un supercalcolatore, alla fine, cioè quello che deve implementare è veramente sempre più o meno la stessa cosa. Ovviamente i fattori di ottimizzazione sono molto diversi, ma, diciamo, questo è un altro aspetto. L'Italia partecipa, per rimanere a EuroHPC, a questo programma si chiama EuroHPC, in cui si cerca, si finanzia la ricerca europea in ambito HPC, in particolare l'EuroHPC investirà 8 miliardi di euro in quest'area nei prossimi sette anni. L'Italia è ben posizionata, è sempre fra le prime tre in termini di attrazione di fondi. Ci sono diversi paesi, 28 mi sembra che partecipano a EuroHPC, e nei prossimi anni, quest'anno, alla fine di quest'anno, verrà installata a Bologna una nuova infrastruttura di calcolo che si chiama Leonardo, è un supercalcolatore che, come vedete, ha qui tanti nodi, sarà un calcolatore di tipo pre-exascale, dovrebbe raggiungere 250 petaflop, quindi petafloting point operation per second, che dovrebbe essere sicuramente fra le prime cinque macchine più potenti al mondo. Ecco, il motivo per cui ho riportato questa slide è questo. Come vedete, questa macchina, che sarà davvero potente, ci aspettiamo circa 240-250 petaflop, misurata su un benchmark standard che si chiama normalmente l'impact, e raggiungerà queste potenze grazie agli acceleratori, quelli che normalmente si chiamano GPU, in particolare avrà delle GPU ampere next gen, ampere next gen, sono quella che credo andrà sotto il nome di A200, e saranno le nuove GPU di NVIDIA che dovrebbero essere un po' più potenti della generazione attuale, non molto di più. Questa macchina, quindi, per poter esprimere grande potenza di calcolo, lo fa attraverso dei dispositivi specializzati, in particolare le GPU. Quindi anche l'ambito dell'High Performance Computing, che è stato sempre tradizionalmente popolato di equazioni differenziali, leggi, codici, Fortran 77, sviluppati 30 anni fa, si sta muovendo a una velocità pazzesca verso l'uso delle GPU. Leonardo avrà appunto circa 15.000 GPU. Ogni GPU avrà circa, sembra, 5.000 core. Oltre questo, questa macchina potrà esprimere una grande potenza di quello che viene chiamata AI Peak Power. Che cos'è AI Peak Power? È sostanzialmente il Peak Power, cioè la potenza di calcolo aspettata in termini di operazioni per secondo, in un'aritmetica a 32 bit. Quindi, qui, diciamo, si, diciamo, ritornando al titolo del talk, si ritorna, si inizia a agganciare un po' questo aspetto. Le macchine moderne per fare supercalcolo sono macchine che hanno molto GPU. Il motivo per cui queste macchine hanno molto GPU è sostanzialmente dovuto al fatto che non so perché ho perso una slide, non importa, ve lo racconto a voce. queste macchine hanno molto GPU è perché, ecco, sì, qui sono riportate anche la lista delle macchine più potenti al mondo, questa è la top 500, come vedete, in rosso, tutte le macchine che raggiungono, che impiegano GPU nel design. Il motivo per cui si fa così è perché le GPU hanno un migliore prestazione in termini di potenza espressa per watt, quindi detto che una macchina, un supercalcolatore, ha sostanzialmente una quantità fissata di corrente che può consumare, per esempio il target nel caso di Leonardo mi sembra sia 10 MW, per motivi legati alla dissipazione e alla densità, alla fine quello che si fa è impiegare il dispositivo che ha più, che riesce a esprimere una migliore quantità, un miglior numero, una migliore densità di calcolo per per watt. Qui è riportato un confronto così a braccio fra una GPU e una CPU, sono due oggetti come vedete uno costa 15.000 euro l'altro 13.000 non c'è così differenza, una singola CPU molto potente, la più potente che ho trovato sul listino Intel fa circa due petaflop usando AVX mentre la A100 fa 10 teraflop scusatevi è sbagliato non è due petaflop ma è due teraflop perché dico questo? Perché diciamo questo è uno dei motivi per cui c'è stato un crescente e c'è un crescente interesse nell'ambito HPC per tutte le tecniche legate all'intelligenza artificiale e in particolare al deep learning il deep learning è sicuramente una tecnica che permette di diciamo guardare avanti in termini di possibili soluzioni sia nel calcolo scientifico sia in molti aspetti anche che ne so per esempio in molti domini l'analisi immagini l'analisi serie temporale ma soprattutto in ambito HPC è sostanzialmente l'unico dispositivo che si può usare per costruire macchine grandi e quindi in qualche modo ancora prima del fatto che le GPU siano adatte o non adatte a fare a fare calcoli scientifici il problema è che i super calcolatori sono costruiti con le GPU e quindi diciamo se non in qualche modo è una scelta un po' forzata cioè chi ha un supercalcolatore o chi si trova per un supercalcolatore è molto interessato a far girare applicazioni di AI perché quelle siamo sicure che funzionano bene sulle GPU mentre questo non è ugualmente vero non è ugualmente vero per i codici scientifici in particolare i codici extensi e le extensi reduce che ho fatto vedere all'inizio quindi diciamo il primo punto della convergenza fra HPC e AI è che i sistemi supercalcoli hanno bisogno delle CPU e hanno bisogno di workload che funzionano bene sulle GPU questi sono i workload dell'intelligenza artificiale questa è una delle due implicazioni d'altra parte è anche vero che i workload di intelligenza artificiale oggi sono oltre alle equazioni differenziali e i problemi classici della simulazione problemi che hanno bisogno di tanto calcolo e quindi si sposano bene con i supercalcolatori io su questo diciamo ho fatto solo un esempio scemo due insomma sono veramente molto a braccio cioè mi sono preso qui questo non so se l'avete mai visto questo tizio strano che corre questo è un esempio di Reinforced Learning sostanzialmente una tecnica per cui si cerca di insegnare qualcosa in particolare a camminare a saltare ostacoli a questo oggetto senza spiegargli come fare lui tenta tutte le soluzioni avendo un reward quando riesce a fare qualcosa in maniera corretta quindi a fare un passo dopo l'altro e piano piano impara a camminare allora con questa tecnica Reinforced Learning si è insegnato alle macchine a giocare a go a giocare a scacchi a fare molte altre attività che fino a ieri erano considerate troppo difficili per le macchine ecco il training di una rete neurale che fa questo come vedete qui è riportata alfa zero impiega circa 500 petaflop per giorno di calcolo che vuol dire sostanzialmente in una macchina ho perso i lucidi scusa in una macchina normale qui l'ho messo o in una GPU normale ho preso un NVIDIA V100 il training di questo oggetto qua di questa rete Reinforced impiegherebbe 36 anni e questo è il motivo per cui alla fine diciamo anche in questo caso i supercalcolatori servono a qualcosa salto questi aspetti qua perché diciamo mezz'ora non ce la faccio che riguardano l'aritmetica di questo calcolo e vado un po' più avanti andando a parlare di deep learning in particolare il deep learning siccome l'abbiamo introdotto normalmente ha due tipi di attività una si chiama training quindi l'allenamento della rete in cui il tipo di calcolo che si fa è molto molto stringente dal punto di vista della quantità dal punto di vista di calcolo il calcolo richiesto sono sostanzialmente delle moltiplicazioni di matrici quindi è molto ben capito ma è molto ha dei requirement in termini di potenza molto spinti perché si devono guardare tanti esempi per poter generalizzare la rete oppure di inferenza in cui sostanzialmente una volta che un modello è stato allenato il calcolo viene utilizzato per riconoscere qualcosa e questo è un calcolo un po' diverso normalmente non ha grandi richieste dal punto di vista di sincronizzazioni e neanche dal punto di vista di precisione si può quantizzare si può moltiplicare rendere in barra singli parallel e così via ora nei principi avrei ancora cinque minuti e moltissime slide ma cercherò di fare del mio meglio uno dei motivi per cui tre anni fa avevamo fatto partire a Torino questa iniziativa che si chiama HPC4AI che ha preso la forma di un data center ma anche quello che ho messo qui alle spalle è questo qua è quello di capire bene questa materia e farlo in collaborazione con gli esperti di dominio cioè gli esperti che sviluppano applicazioni noi avevamo la voglia di far partire un'iniziativa fatta a Torino perché è il lavoro a Torino in cui ci si occupasse dei sistemi software necessari a sviluppare e a eseguire le applicazioni il sistema delle applicazioni fatemi saltare a questa slide qua tanto andiamo veloci che oggi si trova si trova spesso quando si parla di HPC ma non quando si parla di AI è questo l'idea è di avere una piattaforma magari eterogenea con le GPU con le CPU o quello che vi pare quella qui che ho scritto riportato in basso con sopra un sistema quello che normalmente viene chiamato System Software un sistema per distribuire i task sulla macchina e poi finalmente delle applicazioni sviluppate utilizzando G, Fortran Cuda OpenMP MPI quello che volete questo è lo stato dell'arte quello che oggi abbiamo e quello che per 30 anni ha funzionato per le applicazioni HPC perché sostanzialmente i codici erano oggetti dei Moloch monolitici sviluppati per 30 anni in Fortran o in Gion quello che vi pare in cui diciamo piano piano ogni dei piccoli gruppi piccoli e grandi gruppi di ricerca cambiavano poche linee di codice insomma il codice che rimaneva più o meno sempre lo stesso via via che usciva una nuova macchina si riottimizzava e così via se in questa figura quella dell'HVC dello stack di sviluppo dell'HVC io ci metto anche le applicazioni AI le cose cambiano radicalmente perché perché è vero che le macchine i supercalcolatori sono teoricamente pronti per eseguire workload di AI è anche vero che chi sviluppa applicazioni di AI qualunque se siano è ben contento di avere a disposizione un supercalcolatore ma quello che manca è diciamo un livello di software che renda i supercalcolatori facili da usare per chi normalmente sviluppa applicazioni AI siano esse per applicazioni così di tutti i giorni che ne so la rete che riconosce le facce oppure per la scienza per esempio una rete che fa approssima integrali in un processo di calcolo oppure una rete che cerca un pattern di stelle in una mappa stellare allora questa roba qua è oggi ampiamente sottovalutata perché sostanzialmente chi fa applicazioni AI non è pronto e neanche lo farà a usare un supercalcolatore non lo farà perché diciamo il suo ecosistema di strumenti per fare applicazioni AI è totalmente diverso è Python usa notebook web usa sistemi componibili di tipo cloud magari restless tutta roba cioè un supercalcolatore non ha neanche l'interfaccia IP come può aprire un notebook web non c'è non c'è neanche TCP in un calcolatore quindi tutto questo è proprio sono due mondi diversi è un po' quello che stiamo cercando di fare in HPC4AI da qualche anno è cercare di mettere insieme questi due mondi ora un esempio l'abbiamo fatto per il Covid ora non ho tempo di farvelo vedere tutto ma vi racconto solo questa questa parte qui e poi chiudo una delle cose che abbiamo fatto nell'ultimo anno è cercare di sviluppare un sistema di workflow quindi un linguaggio di workflow sapete tutti immagino cos'è un sistema di workflow è basato su un open standard in particolare in questo caso CWL che sta per come workflow language in grado di descrivere applicazioni tipo scientifiche quindi le classiche applicazioni SpatchFam 3D o Quantum Express o quello che volete oppure applicazioni di tipo nuovo che mescolano parti di AI e parti di HPC tradizionali oppure interamente AI questo sistema di workflow che si chiama Streamflow ha una caratteristica a differenza di molti altri sistemi di workflow permette di eseguire vedete qui ogni pallino in questo in questo disegno qua è in realtà un docker e quindi questa è già una prima cosa che in un sistema HPC è un po' stranetta è un docker quindi permette di distribuire facilmente le applicazioni e permette di eseguirle andando a notare informazioni di deployment blocco per blocco uno può dire beh allora questa parte gialla la fai girare su Cineca poi questa azzurra sul mio portatile e poi quella gialla la fai girare di nuovo su Cineca questo permette sostanzialmente di arrivare al caso in cui questo è un caso questa è una single cell pipeline come esempio in cui la esecuzione distribuita fra un portatile e due supercalcolatori ovviamente sul portatile gira solo l'interfaccia web l'utente finale si mette davanti alla sua interfaccia web ma come effetto di esecuzione di un notebook Jupiter è quello di far girare una roba su in questo caso su Marconi 100 come esempio come primo esempio abbiamo utilizzato una pipeline di classificazione l'abbiamo sviluppata per il Covid è una pipeline nuova e l'abbiamo chiamata Universal Pipeline che sostanzialmente fa l'assessment comparativo di tutte le soluzioni di machine learning per riconoscere la polmonità insestiziale che abbiamo trovato pubblicata in letteratura negli scorsi un anno noi abbiamo sostanzialmente definito una pipeline universale con questi tre stadi in cui per ogni stadio abbiamo definito delle varianti che sono le reti che poi i vari ricercatori hanno utilizzato per riconoscere la polmonità intestiziale da questo l'abbiamo rimesso tutto insieme ottenendo una pipeline descritta in streamflow quindi CWL questa è la nostra pipeline che è sostanzialmente alla forma MapReduce questo oggetto qua quando lo si fa girare su una singola V100 per fare l'allenamento della rete sul dataset di riferimento per il COVID-19 che si chiama BMIC19 mi sembra impiega circa due anni su una singola V100 su Cineca impiega meno di un giorno il tipo di parallelismo è piuttosto facile in questo caso è quasi sempre Brassingly Parall non ha tantissime dipendenze però il valore aggiunto di questo oggetto qua è in questa slide qua il fatto è che io parto proprio da un notebook Jupyter descrivo il mio workflow in cui alcune parti sono PyTorch alcune altre sono quello che mi pare a me e tutto questo oggetto qua è descritto in maniera portabile può essere fatto girare in uno qualsiasi di queste piattaforme un laptop un cloud o un sistema HPC ovviamente la velocità con cui genererà sui sistemi diversi è diversa e anche il costo risultato della computazione è diverso però qui diciamo non è che ci sono pasti gratis se uno ha fretta o vuole fare le cose in fretta deve pagare di più questo è descritto questo sistema è descritto in quest'articolo ai Tripoli Transaction and Emerging Computing io che stanno chi volesse avere dei dettagli stiamo sviluppando un certo numero di varianti che riguardano anche aspetti di sicurezza in particolare con un concetto che si chiama AI Sandbox che permette di spostare in oggetti cifrati i dati da una macchina all'altra e cifrati in maniera che nessuno mai debba fidarsi del fornitore perché quello è un po' la nostra fissa questo è particolarmente utile quando uno ha a che fare con dati medici o dati di DNA o insomma dati che hanno forti requirement di sicurezza scusate chiudo la posta perché altrimenti i santori fanno delle cose io diciamo mi rimane solo da dire che questo sistema noi lo stiamo provando il sistema per riconoscere la polmonia intestinale funziona molto bene ha una sensitività una specificità superiore al 90% abbiamo diciamo degli ottimi risultati dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista delle prestazioni ma noi eravamo interessati a un terzo aspetto nell'uno o nell'altro eravamo interessati a fare tutto questo in maniera da avere applicazioni che funzionano bene quindi hanno che riconoscono veramente la polmonia intestinale che sono veloci quindi possono girare su qualsiasi macchina ma soprattutto che sono portabili perché quello secondo me secondo noi è un po' il futuro del requirement da soddisfare quando si mette insieme HPC con AI chi fa AI è abituato a ragionare in termini di cloud di servizi e una macchina HPC così come oggi non la vuole vedere neanche in fotografia e diciamo non ha neanche tutti i torti dal mio punto di vista questo modo di fare ci ha portato anche a pubblicare un po' di articoli importanti ultimamente a gennaio che non me lo sarei mai aspettato in vita mia abbiamo pubblicato anche un articolo su The Lancet che come sapete è una è una rivista medica di grande valore e forse la più la più famosa al mondo e con cui abbiamo definito utilizzando metodi di machine learning e tanti 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 dati uno score quindi un modo di calcolare la probabilità di morte o di altro infarto dopo un infarto e di sanquinamento dopo un major bleeding dopo un infarto e l'abbiamo fatto con un'accuratezza veramente molto importante e noi riusciamo a calcolarlo al 9 volte su di un 90% con il 90% azzeccandoci questo calcolatore l'abbiamo anche messo online che eccolo qua si chiama praise praise hpc4ai.it è totalmente online quindi non è solo un'interfaccia web è un'interfaccia web questa però attaccata a un sistema di inferenza di machine learning uno se lo riempie con le sue cose io non ho minimamente idea di a che cosa sono tutte queste cose però insomma so che 15% di probabilità di morte che non mi rassicura molto però questo è niente Daniele io diciamo tenderei a chiudere prima avevi detto mezz'ora no? eh sì ma infatti ti abbiamo lasciato 9 minuti in più dai l'ultima slide che vorrei perché non lo so mi hai detto che c'era tanti ragazzi tanta gente l'ultima slide che vorrei presentare è questa diciamo nel nostro laboratorio quest'anno partono tanti nuovi progetti abbiamo 10 progetti che partono tutti quest'anno di cui credo 8 o 7 europei e insomma stiamo in cerca di persone che vogliono lavorarci se qualcuno di voi vuole sta cercando lavoro mi contatti a qualsiasi livello RTDA RTDB o postdoc o anche dottorando allora grazie per la presentazione e ora apriamo alle domande se qualcuno vuole intervenire alzi la mano e gli passo la parola Nicola sì grazie cercando di come interrompere la condivisione ma ci riuscirò prima o poi scusate ma il cosa non è la mia cosa preferita come si chiama ecco ah sì volevo intanto volevo ringraziare il professor Andinucci per l'ottima e interessante presentazione di oggi io avevo una curiosità riguardo diciamo i metodi che vengono tra i metodi che aveva semplicemente velocemente trattato riguardo come dire possibilità di velocizzare la computazione in ambito AI e ha parlato brevemente della precisione ridotta quindi passare da 32 bit a 16 bit e magari anche sotto i 16 bit lo chiedi appunto qual era il suo pensiero al riguardo diciamo il mio pensiero è che appena le persone lo capiscono mi fanno felice perché diciamo continuo a ripeterlo a tutti a noi insomma in HPC4AI quello che facciamo è anche dare il nostro sistema di calcolo a tutti quelli che lo vogliono usare anche Daniele credo lo stia usando per un qualche progetto suo diciamo anche gratuitamente se c'è un motivo per farlo noi l'abbiamo riempito abbiamo quasi 100 GPU Nvidia di nuova generazione fra T4 e V100 e le GPU di nuova generazione stavo cercando la slide e la faccio vedere perché almeno riesco se riesco le GPU V100 di insomma di questa generazione usano sostanzialmente riescono a trovare tanta potenza in un dispositivo particolare che si chiama normalmente Tensor Core eccolo qua un Tensor Core è un è un oggetto che sostanzialmente fa una matrice moltiplica due matrici e le moltiplica come potete vedere diciamo mettendo potendo dividere parole in sottoparole quindi a parità cioè usando parole che sono la metà uno riesce a moltiplicare diciamo 4 volte più 4 volte più cell quindi se uno riesce a portare in particolare insomma questa generazione di GPU ha come precisione base la precisione 32 a 16 già va 8 volte di più a 8 bit 16 volte di più a 32 bit va a 32 volte a 4 bit va a 32 volte di più diciamo lì i sistemi per fare machine learning moderni tipo PyTorch hanno un semplicissima linea di programmazione ma proprio basta aggiungere una linea che si chiama Mixed Precision se scegli Mixed Precision tu inizi a usare questo dispositivo che è abilitato da quel particolare flag e tutto inizia ad andare veramente veloce finché non lo fai questo non succede ora il punto invece più tecnico su cui mi piacerebbe anche parlare più a lungo ma non so quanto tempo abbiamo è quanto peggiora le prestazioni in termini di accuratezza la riduzione la quantizzazione e la riduzione di precisione il punto è che una quantizzazione una riduzione di precisione fatta con cura non peggiora tanto le prestazioni qui ho riportato un esempio che potete trovare nei lucidi poi ve le manderò Ternary Neural Network ecco qui in questo lavoro si usano 2 bit quindi 3 valori Ternary quindi neanche 4 valori come ci sarebbe a disposizione 1 0 bottom 1 0 e 1 e ottenendo risultati assolutamente decenti questo è un po' l'idea che per questo genere di applicazioni la precisione ridotta in realtà è molto spesso sufficiente si tratta di imparare a usarla ecco questo questo si perché va programmata e bisogna sapere quello quello che uno fa non so se sì 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 no no grazie mille certo rimane il dubbio di cosa succede quando uno vuole usarla per diciamo equazioni differenziali surrogate per esempio cioè se uno invece di voler riconoscere una faccia o un oggetto sostanzialmente un pixel inizia a dire no ma io voglio calcolare in maniera approssimata un integrale di una superficie complessa oppure una radial basis function cioè se inizia a usare l'intelligenza artificiale per diciamo approssimare i problemi della chimica della fisica eccetera eccetera la domanda rimane aperta ma lì la precisione è importante oppure no io a questa risposta una risposta non ce l'ho e sono interessato anzi magari qualcuno di voi può essere di stimolo ecco insomma è un po' oggi la frontiera nel senso l'uso di tecniche di intelligenza artificiale per i metodi scientifici è ancora non del tutto sviluppato insomma ci stiamo lavorando adesso grazie qualche altra domanda no va bene così allora ti ringraziamo di nuovo e mi hanno chiesto di ricordarvi il prossimo appuntamento giovedì 25 febbraio ci sarà il professor Antonio Pugliafito dell'Università di Messina con un talk dal titolo software defined smart cities integrating the cyber world with the internet of things e per stasera abbiamo concluso grazie a tutti per essere intervenuti grazie Daniele di avermi invitato e buonasera a tutti ciao grazie a tutti